Salve a tutti i miei utenti ed eccoci ritornati con un altro video su Rat and Glory ritorniamo sul fantastico mondo di Warhammer 40k allora, questo non è un vero e proprio racconto dinamico diciamo è un'esperienza che voglio condividere con voi quindi non ci saranno grandi parti di storia ma ci sarà meccanica e modi di poter utilizzare questa meccanica cioè come piace a me, come dico sempre per fonder nel miglior modo possibile la narrativa alla meccanica del gioco e di come la grande ambientazione che ho scoperto alcuni di voi conoscono di Warhammer 40k sia veramente terreno fertile per il GDR proprio perché più di 40 anni di scrittura tra romanzi e tanti altri materiali vogliono dire allora, premessa prima di raccontarvi il tutto i manuali Rat and Glory come molti altri manuali GDR sono completi, cioè ti danno, per quanto il meccanico fa un papier in mezzo ti danno sempre un'infarinatura su un po' di lore su un po' di ambientazione per poterci giocare lasciando poi spazi libri ovviamente per future espansioni oppure per informarsi da altre fonti perché sui manuali di GDR c'è sempre quella pagina che non va sottovalutata è molto importante specialmente per i neofiti ma forse anche per qualche esperto più puntiglioso i cui ti consigliano le opere da guardare, i romanzi da leggere per il mood, per come impostare il tutto ok, perché comunque sia va bene che siamo nella live internet tu puoi vedere esempi ovunque però tu da solo vuoi approcciarti a qualcosa non vuoi entrare nella testa dell'autore allora ti danno dove andare a guardare per istradarti nel verso giusto diciamo, ok? dopo ti ci muovi, fai un po' come vuoi però l'importante è capire la base perché se tu non prendi il concept base come vuoi fare cioè, prendi le lettere e ci fai numeri, capito? quando può qualcosa non ti torna fatta questa piccola premessa andiamo al racconto oggi entreremo in questa piccola avventura che ho fatto neanche un mese fa ben finito e infatti ho aspettato per portarla perché è passato il tempo ma è rimasta in mente a me e alle persone con che ho giocato ragazzi e ragazzi veramente in gamba e ne stiamo ancora parlando quindi vuol dire che ha funzionato e mi sembra giusto portarla qui sto parlando di un'avventura a tre sessioni quindi abbastanza leggera con gli Orchide 40k adesso non mi metterò a spiegarvi cosa sono gli Orchide 40k perché è tanta roba quindi ci sono altre fonti ci sono tantissime luoghi dove potete vedere anche in italiano che vi spiegano come funzionano perché come ho detto la lore di questa ambientazione è in mezza e è molto bella per quanto è dark e quindi ha gusti ma è molto molto bello giochiamo queste creature che quindi ti impongono diciamo un mood fra lo scherzo e lo ser violento sono stupidi ma hanno una stupidità ponderata ci sono i suoi motivi sono estremamente violenti sono Orchi e hanno dei tratti molto peculiari cioè il loro corpo è immensamente potente a confronto degli esseri umani sia proprio di resistenza che di forza le loro menti sono difficili da manipolare sono impossibili proprio perché questa stupidità che vi dicevo in realtà li protegge e hanno un tratto in cui abbiamo fatto focus cioè ci abbiamo giocato parecchio il fatto che questi Orchi ciò in cui credono diventa reale ok? il loro pensiero collettivo materializza cose fa alcune delle cose però essendo stupidi non la possono sfruttare questa cosa ok? è molto aleatoria diciamo non la possono sfruttare fino a un certo punto allora visto che Watt & Glory è un GDR una relazione condivisa e ha il suo diciamo come lo chiamiamo il gettore narrativo cioè il punto era in cui tu puoi fare le relazioni narrative in cui tu puoi mettere mano anche la meccanica ritirando il gran pool di Dani quindi ma perché si ritira questo gran pool cosa accade? ciò fatto sopra l'avventura diciamo ok? loro devono provare a giocare a Yorchi insomma quindi una classica razzia in pianeta un'avventura molto semplice facevano quello che volevano mettevano gli elementi che volevano però le condizioni in cui il setting dell'avventura immaginate che io mi sono detto ma se vogliamo usare questo potere io da GM quindi potrei già mettergli qualcosa per dargli un'idea infatti proprio poi ho scoperto che alcune di queste cose un po' sono canon dell'avventura un po' l'ho messe io esacerbandole ovviamente però niente che vale diverso da quello che gli autori hanno mai pensato e poi se fossero andati diversi non succede niente però era proprio in tema il grande capoguerra cioè il capo di questi grandi assalti planetari ha dichiarato quindi tutti gli credono che le munizioni non mancano mai ok? mi viene da dire perché sembra la gucciottata ma in realtà sta cosa è pericolosa perché essenzialmente le armi degli orchi quelle da fuoco non funzionano cioè sono un insieme di plastica paglia e terra ma le loro mani funzionano proprio per il principio che credono che siano fatte in quel modo loro non è che le possono costruire c'è il mech che gliele fa gliele di guarda questa fa tanto rumore quindi vuol dire tanto rumore vuol dire che spara molto veloce e tanto grossa vuol dire che spara a colpi grossi loro pensano così e funziona così e ci fanno i massaggi quindi dichiarando che non ci sono munizioni loro avevano munizioni infinite erano scavotage per togliere il problema delle munizioni e potevano sparare l'affica quindi consumare varie munizioni per fare casino semplicemente e sta cosa gli ha preso bene cioè già sono entrati nel mood cavolo ci possiamo spingere così tanto eh abbastanza perché comunque sia quanto è uno strumento bisogna oltre che mettere quanto è forte ma quanto puoi girarci intorno quindi già partiva che questi assalti loro avevano due munizioni infinite che dovevano ricaricare l'arma quindi la parte di azione per ricarica quando svuotavano che essenzialmente da muovere l'arma scelterarla e continuava a sparare la bellezza degli orchi e inizia questa razzia girano cioè hanno il loro capetto che non è mai contento di loro quindi cercano di accontentarlo e vedevo che loro con i puntina cominciavano a inserire elementi ok cominciavano a inserire elementi veramente importanti cominciavano a chiamare alleati perché gli orchi tra di loro non comunicano non c'hanno comunicatori però sanno questo è bellissimo ci sono i ragazzi intorno lo sentono quindi magari uno chiamava gli alleati arrivavano perché erano lì vicino questo proprio nella lord o la mer queste creature completamente disorganizzate che in realtà si ritrovano tutti richiamati con o rumori o umori pensieri e san che sono di lì ma è spiegato per via del loro legame psionico immaginate queste le cose vi dico le cose più fantasiosi che hanno fatto con i punti oltre a chiamare alleati oltre ovviamente a creare oggetti perché io ho concesso un punto ira senza il mech tu ti puoi riparare un'arma o creare un'arma c'è un giocatore molto intelligentemente ha trovato scudo antiso-mossa degli arbiters e l'ha modellato sul braccio spendendo un punto ira anche senza il mech lì in maniera raffazzonata quindi in maniera orchesca perché ha la copertura a un combattimento con l'arma pesante cosa che molti orchi hanno cosa che molti orchi hanno tutto inerente a ciò che aveva letto perché conoscere il gioco conoscere l'or è un plus ok non è necessario per giocarci però ti aiuta ti aiuta a espronare quelli dal tavolo ugualmente o informarsi o a pensare si vengono stimolati ma che bella idea quindi una cosa del genere io posso capite ok nessuno richiede che di avere anni e anni di studio però più tu metti e più tutti mettono e più ovviamente il lavoro sarà come dire elaborato sarà completo ok per il grande mio gusto personale perché io da GM rilevo io rilevo gli scaiavo ogni tanto contro creature varie che loro tra virgolette chiedevano cosa incontriamo e in base a quello che avete scelto c'è questo c'è st'altro anche perché il peneta l'ho costruito loro quindi è venuta una bella raffazzolata però era anche un'avventurale di prova per provare infatti la prossima da 10 glory che io farò giocatore un po' di tempo sono molto curioso di vedere cosa i ragazzi mi proporranno andiamo al clou ok andiamo al clou due avventure così ok un'escalation aumentano le armi aumentano i danni qualcuno perde qualche pezzo vengono ricostruiti aumentano l'influenza col capo il pianeta sta cadendo le razzie si arriva al finale il finale è che io ho fatto l'esplopio perché doveva finire vedete il pianeta cadeva cadeva nel senso che gli orchi dovevano o morire o sloggiare e dovevano scegliere come ok hanno scelto l'invasione tirannile per chissà cos'è eravano delle creature aliene dallo spazio in una quantità pressa poco infinita e quindi sarebbero dovuti ritirare o combattere quasi all'infinito o morire quindi era una fine di quell'attacco diciamo e ragazzi questo non l'hanno digerito e hanno chiamato questo non previsto è tutto al tavolo hanno chiamato uno dei tratti degli orchi più belli più più ironici cioè fa ridere più comici il fatto che gli orchi non hanno la percezione del tempo ok e non sono influenzabili dal warp cioè questa dimensione psionica che fa male agli umani a tutte le altre creature loro poche male arrivano devoli prendono a cazzotti o possono morire per carità però non è che hanno danni alla menta al corpo e poi se hanno danni al corpo rigenerano quindi pochi problemi e hanno scoperto o meglio non lo sanno che possono viaggiare nel tempo gli orchi è successo è successo c'è un racconto famosissimo di un orco un cavo grande capo che viaggia nel tempo per trovare indietro uccidere se stesso per avere la seconda copia della sua arma preferita questa è canon di volammer è la parte comica di tutto volammer su noi e su questo quindi hanno detto dobbiamo avvertire il grande capo ma non faremo mai in tempo allora lo avvertiamo prima che arrivi e quindi ho incanzato per la macchina del tempo grazie al mac e la gente di un di lì tutta una grande sfida una grande prova e sono tornati ci sono andate ad avvertire loro non sapevano che tornavano in lì nel tempo che è un mezzo talmente veloce per far prima e in realtà gli ho fatto andare indietro che era troppo tardi e questo ha creato diciamo il finale dell'avventura perché si riconnetteva al tutto che la grande invasione degli orchi l'avevano scatenata aiutata loro perché mentre sono arrivati hanno anche buttato giù le difese planetarie prima che gli avevano il grande capo e loro hanno già detto è stato veramente io ci viene ancora la ride ci viene ancora la ride due sul finale ci hanno lasciato le penne giustamente perché quando sul reattore di difese planetarie incontri il capo Mech col cannone al plasma abbastanza arrabbiato e lo vai a affrontare a brutto muso one a one qualcuno doveva essere vaporizzato però ci sono divertiti veramente tanto ci sono divertiti veramente tanto e se in giorno giocheremo gli ho detto attenzione che si possono incontrare anche le coppie nei viaggi nel tempo perché quando tu vivi c'ha le loro copie questo è un piccolo racconto di come la meccanica cioè il semplice punto era di Death and Glory con cui tu puoi fare creazione narrativa si mischia benissimo la narrativa orchi tu sai il manuale te lo dice te lo accenna tu mi fai lo dice che sai che c'è questo tratto sai che hanno tante capacità incredibili esagerati e tu giochi esagerato senza problemi perché il bello è che funziona perché 40 anni di scrittura aiutano adesso ripeto non devi leggere i 40 anni di scrittura però ti prendi lo spunto perché voi mi direte ma questi come fanno sfermati eh li fermano pensate a quello che c'era con l'altra parte pensate a quelli che gli vanno contro quanto sono potenti per andare contro lo stesso questo volere divino che materializza cose questi affrontano entità affrontano demoni affrontano senza paura affrontano demoni affrontano cararmati iper tecnologici tutto alieni in mente alveare quindi migliori di creature che è in tutti collegati a una sola mente e quindi è una sola creatura che ti colpisce ti attacca allo stesso momento in tutte le direzioni Warhammer c'ha tanta bella lore quindi se siete se siete amanti dell'horror del dark del grim e della fantascienza io lo consiglio sempre un pochino per volta giorno per giorno racconto qualcosa e si impala come come ragnatela parti da un punto si dipala e tu usci in una strada poi ne vedi l'altra non ne vedi l'altra alla fine connetti tutto e fa tutto ci ho messo anni ho messo anni a entrare in questo mondo e divertendomi divertendomi ogni volta scopri una cosa e poi ecco perché quello era così ecco perché questa cosa dopo sono varie cose un po' retcon perché tutti questi anni poi le cose invecchiate male alcune invecchiate benissimo io sono contro alcune cose che ho fatto usci adesso perché non mi piacciono ovviamente fanno usci materiale nuovo su materiale ma è giusto hanno un universo la gesti quindi vogliate a scegliere cosa ti piace cosa leggere cosa vuole approfondire bene penso che il video sia stato anche troppo lungo vi ringrazio aver seguito fino a qui e per noi se avete mai giocato io anche di Wodhammer ma io penso di no se siete stati incuriositi fate domande sono sempre contento di rispondervi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti